Luna, scusi, puoi evitare? Luna? Scusa, puoi evitare? Luna? Basta! Ah, sto parlando! Iniziamo questo video in una zona un po' diversa dal solito, cioè sono a Milano perché oggi sarò una dei trainer di Adidas all'evento che svolge in Parco Sempione per due workout e poi sarò tutto pomeriggio a salutare tutti voi che vi siete iscritti al workout e alla giornata quindi ho deciso di portarvi con me, quindi iniziamo! Sono in città! Grazie a tutti! Allora, qui è la seconda stazione, seconda stazione per chi riesce arriva qui salta, monkey bars e arriva dall'altra parte Allora, questa è una stazione in cui si fa in coppia, quindi vi dovete passare la palla, quindi squat, tu vieni, mentre lei fa lo squat e io faccio lo squat e ricevo la palla Quindi è così, ok? Perfetto! Fino alla barra, sale e stende da questa parte e ritorno indietro, ok? Spassione numero 6, semplicissime piegamenti alle parallele, quindi mettete così, piegamento Stazione numero 6, semplicissime piegamento, si fa in piccolo, in posizione di sotto, vai! Ampia? No, semplicissime piegamenti alle parti, ok? 8 giri, passiamo? Via! Sì! Sì! Quinto persone conoscenti di oggi per inaugurare il nuovo store Anjas il più grande d'Europa il 29 settembre alle 18 in Corso Vittorio Emanuele sarete con 5 e per il mercato e fa con lui buongiorno benvenuti grazie di essere benvenuti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti No, buccello Quanto è triste questo momento L'ultimo boccone Jimmy l'ha già goduto l'ultimo boccone Il mio oramai di triste non c'ha nulla Goditelo Assaporalo Io tipo prima di mangiare l'ultimo boccone Faccio un respiro, un momento zen E se io te lo contamino Tu potresti morire In questo momento Jimmy Jimmy mi incazzo No, però sono seria Momento zen di raccoglimento Adesso ti mangio Anche lì È la volta giusta È la volta giusta Orucola e grana Però io la prenderei da sport Ne prendiamo un'altra Coglutine No Dopo una giornata così Diciamo che Un'altra pizza Divisa con Jimmy ci vuole Questa volta Orucola e grana Top Oh, le pizze che piacciono a noi Barbone style Oh yes Questo è street style È street style Che barbone Perché l'insalata Va mangiata solo Se sulla pizza Basito Suave, suave Oggi è il giorno del mio compleanno 24 Silviembre E oggi è il giorno in cui ho deciso di cambiare il mio nome su Instagram Da Building Muscles Voglio diventare Silvia Fashions Il motivo per cui ho deciso di farlo È che Sentivo che Building Muscles non mi apparteneva più E non mi appartene più Perché Quello che Ha fatto È stato quello di documentare Il mio Processo di costruzione Dei muscoli Quando in realtà era più una costruzione mia personale E una mia maturazione Ma adesso Non mi dico che mi sento arrivata Perché come voi sapete Io dico sempre che è un work in progress E che Cercherò sempre di migliorare Però Non voglio O comunque voglio ridurre Il fatto di essere associata Alla mia malattia E Diventare in qualche modo Non so È difficile da spiegare Ma Me stessa Cioè Voglio essere Silvia Non L'ex malata di onoressia Voglio essere me stessa E il fatto che Voi mi riconoscete come Silvia Mi ha dato tanto per la mia autostima E per il mio Riconoscimento personale Quindi Sono felicissima Di poter Cambiare nome E Diventare me stessa E voglio farlo Adesso In diretta Per me è molto importante Perché Instagram È tipo il mio Piccolo bambino Quindi da Building muscles Cancella Silvia Ups Non so anche scrivere Fascia Sta per finire un'era Tre Due Uno Ah Done Ah Me l'hanno rubato Ah Rettifica Siccome Silvia Fashions Non esiste Epic Fail Facciamo Silvia Punto Fashions Ricominciamo Tanto le cose Non devono mandare bene Alla prima Silvia Punto Fashions Vado Vai Minimo mi fa fail Di nuovo Andato Quello zio Dove Significa tantissimo Adesso Fare il post Annunciati O Annunciati O Bene Adesso Che ho fatto Questa cosa Gini Finisce Il fare Colazione E Andiamo A passare La giornata A Milano Andiamo a provare Un ristorante Senza gluten Siamo pronti? Sì Allora Volevamo fare Un assaggio Di tre antipasti Tre antipasti Tre antipasti Tutto senza gluten Tutto senza gluten Allora Falafel Dico bene Falafel Falafel Bebop E per lei Gnocchi Frischi Grazie Grazie Sottoconsiglio di alcuni di voi Siamo tornati a Milano Saluti Saluti al ristorante Bibop Che fa Tutto Senza glutine Un menù Totalmente senza glutine E ha tantissime opzioni Anche vegetariane Vegane Infatti Io ho scelto Stanto quelle vegetariane Vegane Perché mi fanno Le farlo I gnocchi Che non mangio mai Voi lo sapete E iniziamo Con fiori di zucca Ripieni di ricotta Falafel Di quinoa Qualcosa Quella è maionese Vegana Buon appetito Polpetta Io prendo la più grande Quale vuoi Che prendo Focaccia Con crema di radicchio Rosso E zucca inglese E' buonissimo questo Tu mangi tutto Anche il fondo Ma si mangia tutto Maionese vegano Senza uova Senza uova Quindi non lo so Io assaggio la crema Questa è tipo La terza pizza Un giorno Con questi piatti Io potrei diventare vegana A mangiarsi sempre Così Fenomeno Sì Non mi aspetta La ricotta Non è vegana Vabbè È vegetariana Sì O anche due Tagliatelle Gamberi Calamare Pesto Vada lì E io Gnocchi Gnocchi Alla sorrentina E brufala Di brufala Gnocchi Se questo non è food porn Ehm Vigno Ma vuoi che scappetto Ci può con quelli Dobbiamo anche quelli di Jim Dovrei vendergli la mia ricetta Con quel pollo E come un'erise In pesto Tu tornare a casa E venire con calma Ma non se la spostano dalla È il mio compleanno Oh Il tiracione Non so Tutanico La mole è come la luna Se non cresce Cala L'innomato proverbio cinese Della stella Calpe diem Qui è ora Si sanno prendere per il cu Eccoci qua Sono in fase di conclusione Di questo video Ma prima di chiuderlo Volevo dirvi un paio di cose Allora Sabato Per chi è venuto all'evento Uno Spero si sia trovato bene Gli sia piaciuto E si sia divertito E due Volevo ringraziare davvero di cuore Tutte le ragazze Che mi hanno lasciato un pensierino Vi volevo anche far vedere Cosa mi hanno regalato E sono delle matte Allora Vale Vale ai roldi Mi ha regalato questi attrezzi Per fare i dolci Per fare i pancake Visto che ho iniziato La mia nuova serie Delle torte alla fashions E mi ha regalato questo libro Che Praticamente racconta La storia della vita Di cento donne Forti Strong Cui vita O comunque coraggio È stato molto significativo Nella loro vita E comunque per il mondo Poi Rita Mi ha regalato Questi Che sono dei petali di sapone Da mettere Nella vasca da bagno Quindi questi Mi li porterò a casa Perché qui È già tanto salmadoce Inutile dire Che ho ricevuto Un sacco di lettere Grazie Davvero Piano piano Sto rispondendo un po' A tutti Mi dispiace Che Ogni tanto Leggo Di messaggi Che mi arrivano Dicendo che io non rispondo mai Ma Voi non avete idea Di quanti quanti messaggi Poi subito adesso Per il mio compleanno Ho direct intasato Che mi arrivano Ogni giorno E In ogni piattaforma Facebook Instagram Posta E mail E voi siete tantissimi Ma io sono una sola E mi gestisco da sola E Considerate che io comunque Ho una vita da portare avanti Sono una studentessa Studio Faccio cose Quindi Non riesco Seppur mi ci impegni E seppur io faccio il possibile Non riesco a rispondere A tutti Quindi mi dispiace Ma non arrabbiatevi È davvero Difficile Non faccio questo come lavoro Ma è soltanto parte Della mia vita Poi questi Cuoci uova Che devo ancora provare Però Praticamente si apre l'uovo dentro Si mette in acqua bollente E ti fa l'uovo Come lo vuoi tu Dipendentemente dal tempo di cottura Grazie mille Grazie mille anche di questo Grazie mille anche a Balance Is Happiness Per avermi fatto Un pancake Fenomenale Alto così Buonissimo E per fortuna Mi ha anche lasciato la ricetta Quindi di sicuro Lo riproverò E ve lo farò anche vedere Nel caso Ma di sicuro a me non verrà mai così buono E poi grazie mille Per queste barrette Sono di due tipi Questa Di questa marca Cui ingredienti sono Fichi secchi Noci Sesamo Succo d'arancia Succo d'uva Estratto di mandorle amare Quindi ottime E poi c'è questa marca Che è Perfect Bio Ha diversi gusti Ma cui ingredienti sono Grano saraceno Datteri Nocciole Fave di cacao Massa di cacao Mandorle More di gelso Quindi assolutamente tutte naturali Tutte senza glutine Senza zuccheri aggiunti Quindi perfette E fantastiche Grazie mille Mi saranno molto utili Per l'università E quando vado in giro E mi è stato regalato Anche questo sacchettino Con un mix Di noci Nocciole Mandorle Dove sono anche scritte Alla data di scadenza E chi me l'ha regalato Quindi Grazie davvero E voi sapete che io adoro queste cose Grazie Spero di non essermi dimenticata nessuno Perché sono arrivata a casa Ho spacchettato tutto E però poi ho messo via Quindi Ovviamente una cosa me la sono dimenticata Ed è questa cover del telefono Con scritto You make me wanna be a better person E è bellissima Perché mi sento dedicate queste parole Quindi grazie Grazie davvero Soprattutto di essere venute E darmi un abbraccio Quindi io volevo concludere qui questo vlog Ringraziandovi di cuore Per tutto quello che avete fatto Per aver reso il mio compleanno speciale Perché è bello Sentirsi amata E sentirsi apprezzata E vedere gli altri E celebrare la tua vita Io nel 2012 Quando ho compiuto 19 anni Ero ad Amsterdam E ho passato il mio compleanno Chiuso nella mia stanzina Da sola Senza parlare con nessuno Senza alcun amice Senza la mia famiglia Diciamo che Io anche qui potevo farlo Potevo tenere lontano tutti e tutti La mia stanzina Ce l'ho E sono da sola lontano Da mia famiglia Ma È anche un po' questa la cosa Che Noi possiamo decidere Di trovarci in determinate situazioni Cioè Io lì Quell'anno Avevo anche un po' deciso Di allontanarmi da tutto E da tutti E avevo anche deciso Di sentirmi Abbandonata Come se lo volessi Mentre io Adesso Ho detto Assolutamente No Voi adesso Venite qui Ho chiamato Jimmy Poi è stato organizzato Questo sabato Insieme a voi Però Ho fatto di tutto Al fine di non rimanere da sola Cioè È ovvio che Sarei rimasta da sola Se avessi detto a Jimmy No non venire Stai là Io Il 23 Non voglio vedere nessuno Io me ne rimango a casa Tutto il weekend È un po' quel discorso In che In inglese si dice Negativity Brings negativity Cioè La negatività L'affrontare qualcosa In modo negativo Può portare soltanto Cose negative E invece Se si affronta una situazione Con spirito positivo Gli outcomes Possono essere Vari Diversi Ma comunque Si è già iniziato Con Un approccio diverso Cioè Spesso Una situazione negativa Può essere anche causata Da un nostro comportamento O da Quello che Noi Consciamente O inconsciamente Facciamo Verso noi stessi In una situazione In cui ci poniamo Spero di essermi Fatta un attimo capire E di essermi spiegata Sinceramente E quindi Io finisco qui Con questo video Tanto cura A voi siete brini Che siete Sia vergine Che bilancia E Niente Basta Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie.